È l'ultimo tavolo. Grazie. Salve. Mi dica pure. Jack Traynor per la signorina McGill. Le diamo una smossa, che ne dici? È vestita? Il signor Jack Traynor chiede di lei, signorina McGill. Grazie, Cinzia. Non c'è per nessuno, vero, signorina? Sì, Cinzia, grazie. Le porto qualcosa, signor Traynor? Caffè, tè, me? È una burlona. Grazie, non mi serve altro.